Il panorama musicale italiano è stato profondamente colpito da un'altra improvvisa e dolorosa perdita, ed è difficile accettare che un nome così illustre si sia spento, abbandonando la dimensione terrena. La notizia del decesso è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciandoci letteralmente senza parole. Questa triste notizia è stata un colpo al cuore per l'intera comunità italiana, che ha sempre riconosciuto e ammirato il talento di questo grande artista. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire chi ci ha lasciati, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Francesco Brazzo, celebre musicista, polistrumentista, arrangiatore e amato insegnante presso la Scuola di Musica Vivaldi di Bolzano, ci ha lasciato all'improvviso. La sua dipartita ha creato un vuoto enorme nel mondo musicale italiano e il dolore si è esteso a tutti i suoi allievi, molti dei quali giovanissimi. Brazzo era noto per il suo carisma, la sua simpatia e la sua creatività straordinaria. Non appena la triste notizia si è diffusa, numerosi hanno riversato le proprie lacrime sui social, con messaggi di cordoglio, poiché la sua improvvisa partenza lascia dietro di sé la moglie e due figli. Con soli 59 anni, la sua prematura scomparsa è un duro colpo per tutti coloro che hanno apprezzato e condiviso la sua straordinaria passione per la musica. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per esprimere la tua opinione e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.